Boom di richieste e posti già esauriti per la settimana di vaccinazione AstraZeneca riservata alle persone della provincia di Pescara di età compresa tra 60 e 79 anni. Sono sei gli open day di questa campagna anti-covid promossa dalla ASL in collaborazione con il Comune di Pescara iniziata il 25 aprile che si concluderà venerdì prossimo. Sono 3.500 le dosi complessive di AstraZeneca a disposizione anche se gli organizzatori della campagna vaccinale sperano che possano arrivarne molte di più in modo da poter raggiungere l'obiettivo di immunizzare tutta la popolazione. L'assessore comunale alla protezione civile Eugenio Seccia spiega che sebbene ci fosse il timore di riscontrare una forte resistenza da parte dei cittadini, ieri invece sono stati inoculati tutti i mille vaccini previsti. Sono stati esauriti 3.500 prenotazioni durante questa settimana. Oggi ne avremo 900 unitamente a quella che è la programmazione attuale. Pertanto già da ieri Pescara ha dato prova di sé della ottima organizzazione. Ringrazio tutti quanti i dipendenti comunali, la protezione civile e tutti coloro che si sono adoperati per mettere su questa piattaforma e ovviamente adoperarsi affinché non ci siano state file di sorta. Quindi l'invito ovviamente al Governo centrale, alla ASL al fine di fornire quelle che sono ovviamente le dosi per poter effettuare le somministrazioni e raggiungere l'immunizzazione di gregge su Pescara il più presto possibile perché Pescara ha dato riprova di essere pronta. In questa struttura, al palafiere di via Tirino, proseguono nel frattempo le vaccinazioni delle persone delle categorie fragili e anche i richiami. Sta procedendo tutto per il meglio? Sì, sta procedendo per il meglio. Come è avvenuto già per lo screening di massa, si sono sincronizzate le procedure, efficientati i tempi e quindi non ci sono attese e disagi sulla popolazione. Quindi sicuramente ribadiamo di essere pronti e di voler aumentare anche le somministrazioni, vaccini permettendo che rappresentano il vero collo di bottiglia a questa operazione di immunizzazione sanitaria della città di Pescara e per quanto riguarda AstraZeneca all'intera provincia.